Ma quanti anni avevi? Due, due anni. Questo franco adesso. Un minuto. Che piacevi? Un ragazzo che conoscevi lui. Eh. Ciacciati. Se ti mi fanno rosare la tua sorella, ti ha pagato l'inguria. Non l'ha venduta per un angolio. Allora la comprano in giuria. Ha detto sì, sì. Quelli la comprano in giuria, che l'ha messa in giuria, la mancia lecita e la fanno... Indigestione. Indigestione in giuria. Ma l'ha sorrere. E che le c'è molto rosso. Eh, tu te le senti che le c'è molto rosso. Che le c'è molto cecchino? C'è molto cecchino. Che qui? Beh! È stato mal notato. È stato malato. È stato malato. Grazie.